Ladri golosi di merendine. Furto nella notte nel liceo artistico Palizzi a Lanciano. I ladri si sono introdotti nei locali della scuola arrampicandosi dal cortile. Dopo aver forzato una finestra di un corridoio, una volta nell'atrio, si sono accaniti sui quattro distributori di merendine e bevande presenti nel locale. Hanno portato via appena un centinaio di euro in monetine, l'incasso della giornata, raccontano al Tg Max, i collaboratori scolastici che ci accompagnano sul luogo. Il manutentore della ditta distributrice, infatti, era passato appena il giorno prima a ritirare il denaro contenuto nelle apparecchiature. Non soddisfatti forse dei soldi racimolati, i ladri hanno portato via anche metà degli snack. Il resto è stato ritirato in mattinata da un addetto dell'azienda distributrice avvisata dell'accaduto. I danni maggiori sono evidentemente quelli riportati dai contenitori forzati per lo scasso. Non è la prima volta che viene messo a segno un furto nella scuola di via Ferraris, raccontano ancora i collaboratori scolastici, mentre ci mostrano i distributori manomessi. Anche un anno fa, i gnoti si accanirono contro le macchinette di merendine e bevande e come per questa volta, neppure l'anno scorso, l'allarme di cui è dotato l'istituto è scattato. Nessuno riesce a spiegarsi i motivi del mancato funzionamento. La provincia di Chieti, titolare della scuola, è stata sollecitata più volte, ma, si sa, le casse dell'ente sono vuote. Ad oggi nessuna risposta. Per i rilievi è intervenuta la scientifica della polizia. Sull'accaduto indagano gli agenti del commissariato di Lanciano.